Figlia di Icilio Gerardi e di Emilia Bandieri. Fu all'inizio degli anni sessanta reginetta di numerosi concorsi di bellezza. Vinse il titolo di Miss Liguria nel 1962. Studentessa presso l'Accademia delle Belle Arti. Iniziò a recitare presso il piccolo teatro Duse di Genova, dove ebbe l'occasione di lavorare con Dario Fo. Terminati gli studi si trasferì a Roma. Dove esordì come cantante di musica leggera. Incidendo alcuni 45 giri per la compagnia generale del disco usando lo pseudonimo Marcella. Passata alla Stereo Master, partecipò a un disco per l'estate 1967 con L'amore ce l'hanno tutti. Verso la fine degli anni sessanta avviò la sua carriera cinematografica. Restando tuttavia una figura di secondo piano. Il 30 maggio del 1971 fece scalpore sui giornali il suo arresto insieme al produttore e regista. Faruca Grama, suo compagno all'epoca dei fatti. Per il possesso di circa 6 grammi di droga. L'attrice venne comunque rilasciata dopo tre giorni di fermo. In televisione ha interpretato il ruolo della scrittrice Oriana Fallaci nello sceneggiato. Televisivo Panagulis vive, 1980. Diretto da Giuseppe Ferrara, il suo ruolo cinematografico di maggior rilievo fu quello dell'omosessuale Concetta in Immacolata. E Concetta, l'altra gelosia. Ottima opera prima di Salvatore Piscicelli che destò scandalo nel 1979 per le numerose. Realistiche scene di sesso. Utilizzata in alcuni film di genere poliziottesco. La Michelangeli si specializzò nel ruolo della terrorista. Interpretato in Mark colpisce ancora Italia. Ultimo atto, negli anni Ottanta una crisi personale prima ancora che artistica fece sì che la Michelangeli abbandonasse il cinema facendo perdere le sue tracce. Secondo una dichiarazione rilasciata dal regista Massimo Pirri alla rivista Nocturno. Oggi l'ex attrice vivrebbe a Roma.